Bella a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video siamo qua con la review del team of the group stage di Europa di Champions League ci saranno ovviamente carte che troveremo nei pacchetti carte che potremo ottenere negli obiettivi e carte che potremo ottenere nell'SBC le andremo a vedere tutte quante assieme di conseguenza andiamo a vedere quali sono le carte partiamo dalla prima che è l'Ionel Messi versione 95 carta che rispetto al 93 incomincia a assumere qualche sembianza più importante prende un più 3 in velocità, più 3 a tiro, più 3 a passaggio e più 2 dribbling, più 2 difesa, più 3 a di fisico rispetto alla 94 è un banale più 1 in tutto con un più 2 però in velocità e 2 in fisico questo Messi che ha più spazio sicuramente di miglioramento in velocità che nelle altre caratteristiche l'accelerazione è già 94 ma la velocità scatto va a 83 il tiro ormai 98 fine edizione, 96 posizionamento il dribbling è 97, è tutto da 93 in su cioè in realtà è tutto da 96 in su tranne agilità 93 a livello di passaggio è tutto da 94 in su escluso il cross a 88 tiro fenomenale direi che la carta è di fatto fenomenale tranne che ovviamente quella velocità scatto che un po' va a rovinare rimane comunque un'ottima carta secondo me è molto consigliato a livello di 3 quarti ovviamente a questo prezzo non so se lo andrà a prendere vedo che il press range è fino a 4 milioni e 2 il 94 sta a 1 milione questo meno di 2 milioni secondo me 1 milione e 8 non costerà e a 2 milioni non so se andrà su Messi o se preferirei anche per una difficoltà di ibridazione dei link possibili probabilmente preferirei di andare su altre carte o su icone quindi non so questa forse con Falco è praticamente perfetta incomincia già a somigliare a una versione Toti tranne che la velocità appunto perché poi per il resto tiro e passaggio i dribbling sono fenomenali poi abbiamo Kevin lui becca un più 1 in tiro più 1 in passaggio, 2 in dribbling, 2 in velocità, 2 in fisico secondo me non ancora abbastanza per essere un upgrade importante da 180 questa versione rimane comunque con un press range fino a 1 milione da quello che vedo e di conseguenza non dovrebbe costare proprio un fottio secondo me 3-400 mila spero si soffermi però a questo prezzo cioè in qualunque prezzo sia in questa carta secondo me l'upgrade è talmente piccolo e su caratteristiche dove ha bisogno di un upgrade molto più importante secondo me non è che si noterà così tanto quindi sicuramente buona carta come centrocampista in un centrocampo a 3 o come trequartista però non mi sento di consigliare la base tantomeno questa qui quindi no poi abbiamo Bruno che diventa sempre più interessante rispetto a 89 è un più 1 in tutto con più 2 in tiro e più 2 in dribbling dove effettivamente non ne aveva una necessità particolare sicuramente quel 2 in agilità non è male ma quello dove diciamo che Bruno tutti lo utilizzano come centrocampista pochi lo utilizzano come trequartista perché onestamente raga serve un giocatore più veloce quindi consigliato fino a un certo punto come trequartista ma come centrocampista assolutamente interessante dà sicuramente qualità al centrocampo gli dai una bella ancora e non è affatto male al centrocampo però non lo so non so se questa versione secondo me costerà un fottio costerà un milione se costerà un milione raga non ne vale la pena non vale così tanto secondo me Bruno Fernandes è parer mio però carta dall'indubbio valore cioè sicuramente molto forte però bisogna anche considerare il prezzo e l'alternativa a quel prezzo poi abbiamo Kimmich non siamo neanche a perderci tempo 68 vescita scatto basta quello 70 forza fisica cosa vuole fare nel senso centrocampo non corre non ha forza fisica sicuramente ha un buon piede sicuramente sa difendere ma poi è comunque minutino senza forza fisica e senza velocità a me non piacciono giocatori così poi abbiamo Sterling lui ha il solito problema tra piede debole prende più due in tiro più in passaggio e più uno nel resto comunque un'ottima finalizzazione nonostante magari non abbia un tiro proprio assoluto e di base come carta diciamo che è forte e a 300.000 crediti non è neanche così male al prezzo a cui sta già girando adesso già a 200 secondo me non è neanche così male perché comunque corre tanto super agile ottima finalizzazione è una buona carta poi da lì all'essere effettivamente meta a sinistra abbiamo Rashford e tanti altri quindi non so se lo utilizzerei però non è male poi abbiamo Navas che vabbè ce ne lascia il tempo cioè che ce ne fanno più uno più due vabbè è uguale alla base quindi se la volete perché è blu va bene poi abbiamo Papu il Papu rispetto all'87 prende più due in tiro più due in passaggio questo già è un upgrade che ci interessa un po' di più non è un più cinque però il tiro da 81 83 già è un po' meglio e vabbè velocità e dribbling erano già quelle che erano il passaggio era già molto buono ma così arriva 80 in passaggio lungo 89 in passaggio corto 90 di visione finalizzazione già va 84 questa è un'ottima carta l'87 gira 100.000 questa qua girerà 200 secondo me già adesso 290 se arriva a 220 230 questa è un'ottima carta secondo me assolutamente worth Alexander Arnold rispetto all'87 prende P3 in velocità che era la cosa che ci interessava un po' di più però in realtà è una carta buggata quella di Arnold perché parliamo di un 88 che praticamente ha due caratteristiche di numero sopra l'88 però in realtà in game è molto più valido di quello che leggiamo un'ottima carta onestamente come leggete ha anche un body type unique cioè unico solo lui ce l'ha 300.000 un po' troppo non spendere mai per un terzio o 300.000 soprattutto che non ha 90 di velocità e rimarrei comunque sempre su Kyle Walker per quanto riguarda la Premier poi abbiamo Holland Holland che è un 88 velocità 92 tiro 89 fisico solita carta prende però rispetto all'87 un più 1 in tutto anche lui con un paio di più 2 però rimane sempre la stessa roba cioè questa carta è forte perché è in dubbio che è forte perché in game è veramente un cagacazzo corre tanto è difficissimo a spostare fisicamente segna sempre perché è un super finalizzatore io non lo sopporto però perché è un 3-3 è un giocatore che non sa skillare io lo evito come il pane l'87 che lo guarderei con l'86 è un più 1 all'86 questa carta costerà tantissimo e per la differenza che c'è dall'86 che è più 1 a tutto e un più 2 al tiro che sì ok è importante più 2 a passaggio però io mi aspetto che questa carta costerà almeno 1.2.000 1.3.000 e il press range va fino a 2.500.000 secondo me costerà troppo e lascia il tempo che trova una carta che costa così tanto con così poca differenza secondo me però anche questa carta ottima quindi tanta roba Diego Carlos questo è sì già su questa sì sono molto più felice più 3 in velocità più 2 in difesa più 2 in fisico il prezzo però è troppo alto al momento 650.000 credit secondo me è troppo per questa carta già 300.000 giustificherei forse anche troppo 300.000 però insomma 4 piede debole corre una difesa non male super forte fisicamente una buona elevazione non altissimo body type già high and stock quindi vuol dire che è un po' pesantuccio non so rimane meglio Varane però insomma se si abbassasse un po' di prezzo questo è molto interessante poi abbiamo Cerby vabbè 69-62 andiamo avanti Morata 3-4 79 accelerazione 74 agilità 65 di equilibrio andiamo avanti Diogo Yota che ricordiamo la metà di voi ha già fatto l'altra versione quindi immagino che gli saranno molto felici dell'upgrade è un 4-5 l'upgrade è interessante non incredibile non ha una finalizzazione non ha passaggio non ha volista a scatto è ok niente di più niente di meno poi abbiamo Elvedi 78-62 84 difesa 82 fisico lui è molto interessante invece lui invece è 72 accelerazione big f tutti quelli che sono in bundes non sanno accelerare a quanto pare però insomma questa carta è interessante questa con ancora in qualche ibrida strana tanto questa costerà poco questa in qualche ibrida strana è molto carina poi abbiamo Teornandes rispetto all'83 questo si becca un bel upgrade perché comunque becca più 3 in difesa più 2 in fisico più 2 velocità più 3 passaggio più 3 dribbling questo è un bel upgrade la versione dell'altra costa 179 questa gira già 290 quindi onestamente se dovesse girare 250 280 questa è tanta roba a me il base era piaciuto molto quindi in game non so neanche guardarlo più di tanto perché comunque la difesa è stata appata questo qua lo giochi con Ancora o Sentinella questo diventa tanta roba questo è veramente un ottimo terzino peccato contro 3 però insomma buona buona carta ovviamente questo prezzo non lo prenderei mai perché comunque abbiamo un Mendy che è bagatissimo che costa 60.000 crediti però insomma è una carta molto interessante e in termini futuri potrebbe essere molto 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 buona poi abbiamo Yaziki 77 velocità 74 accelerazioni 77 agilità andiamo avanti Pepe 4-2 2 piede debole il fatto che non ci siano esterni destri probabilmente lo rende comunque interessante perché comunque non ce ne sono molte alternative però a questo punto andrà su sala onestamente poi abbiamo Coman questo è da sbloccare sbloccatelo assolutamente perché comunque becca un più 2 velocità più 4 in tiro più 3 passaggio più 2 dribbling più 4 fisico e la finalizzazione diventa già non male passaggio quelle cose interessanti ci sono il dribbling era già buono era già buona però è migliorata parecchio questa qua con sentinella non è male quindi se avete tempo e voglia anche perché mi piace pure il body type anche se è un 4-3 lo sbloccherei e poi abbiamo Lucas che adesso vediamo magari aggiornando c'è già qualche opzione di SBC non si sa ancora il prezzo visto che sono due sfide 85-84 con qualche top costicchiera diciamo che questa però prende un P3 in tiro P3 passaggio 2 dribbling questa sì per esterno adesso non è male non è incredibile adesso non so il prezzo effettivo se costa 100.000 110.000 li vale se ne costa 200 300 no secondo me no a quel punto sarebbe sovrapprezzata perché comunque non è un tiratore non è un top passaggio velocità di dribbling ce l'ha anche nella versione base quindi comunque non è male può aver senso farla ma dipende a che prezzo quindi queste qua ragazzi erano le carte fatemi sapere come vi ci trovate e se ne utilizzate qualcuna ovviamente questa non è una review in game una review off game prima di provarle abbiamo visto quali sono uscite fatemi sapere quali vi piacciono e se ne farete qualcuna e se ne farete